Bella a tutti ragazzulli e benvenuti nel diciannovesimo episodio di questa serie di Minecraft Signori, l'episodio dell'altra volta assurdo, assurdo, però va bene Però ripartiamo da dove ci siamo lasciati più o meno, più o meno Signori, ma prima di partire il video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suoi genitori e per il supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale, signori Detto questo, allora, beve recap Scorso video siamo morti cercando di esplorare questa caverna Siamo riusciti a recuperare tutto quanto l'Ambaradan Ci siamo lasciati in una situazione più o meno critica Dallo scorso video a questo io mi sono tornato un attimino a casa Signori, ho sistemato un attimino l'inventario, ho fatto i materiali in ferro Ho cotto un po' di ferro e ho portato un altro po' di carne Perché eravamo rimasti senza carne, signori Allora, noi dobbiamo continuare a esplorare questa caverna Io ho messo qualche torcina così a giro per cercare di dare un po' più di visibilità alla situazione Ma mi sembra che andando di qui non ci sia niente di interessante A parte questa lava, però forse possiamo riuscire a scendere così Non penso, però noi ci proviamo Aspettate, perché là ci sono delle torce? Ma quindi già ci siamo stati noi qua Quindi siamo morti per nulla, signori Questa zona già l'abbiamo esplorata Siamo morti per nulla Io non ho fatto caso che là sotto a terra c'erano delle torce No, non ci posso credere Deve essere una... forse ci eravamo arrivati dall'altra parte Eh sì, perché ora ci stanno delle torce Là ci stanno i zombie che deve rompere le scatole Giustamente il video è nuovo e anche lui vuole partecipare al video di oggi Ma non ti faremo partecipare, mannaggia a te Deve morire male Sì, bravissimo Torna, continua a salire Niente, signori L'avevamo... l'avevamo visitata sta... sta caverna Delusione totale, delusione totale Io mi aspettavo che... che cosa nuova E cos... nuove avventure Nuovo... nuovo ferro lasciato là Mannaggia a me E a quando faccio le cose a metà E... là c'è un enderman Che per ora continueremo a ignorare in maniera Eh... riesce a mettere una torcia qui Qui c'è del buon ferro Proviamo l'arco, signori Che ho sistemato più o meno Deve morire Oh, bravissimo Abbiamo ottenuto un obiettivo Grande così E stiamo anche per finire le frecce Guarda come stiamo per finire le frecce Oh, perfetto È morto prima che noi finissimo le frecce Se non ne avevamo quattro Quindi diciamo che... La situazione non è tanto migliorata Recuperiamo un attimino questo ferro al volo E... va bene E... boh Che vedevo di signori? Mi sento rumori di sottofondo Che non mi piacciono per niente Allora Di sicuro Di sicuro Forse non l'avevamo esplorato del tutto questa zona Perché comunque ci sono materiali Non ci sono torce da tutte le parti Quindi... Mi fa presupporre che non l'avevamo visitata del tutto E mo' noi la visitiamo del tutto, signori Recuperiamo tutto quanto qui Il buon ferro che a noi serve Come... Io sento lo zombie Che però si è fermato È stata educata Avete visto? Non ci è venuto a rompere le scato Ci sta rompendo adesso Però... Non è già tecchi Non te lo dice pure Recuperiamo pure questo ferro Facciamo trovare dei diamantozzi Non sarebbe brutta come cosa Sapete? Facciamo trovare magari dei diamantozzi Perché io sto recuperando Sto... Sto andando all'avventura Alla ricerca di ferro Però... Non è già tecchi Non te lo dice pure Devi morire Mori 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 Ok Eh... Sì forse non l'avevamo visitata Tutta la caverna Aiai Scheletro Dei mimaroni Scheletro e creeper Proprio una combo perfetta Signori Scheletro e creeper E mini zombie pure Bene Diamante 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 Allora Allora Stiamo calmi tutti Stiamo calmi tutti Signori Che la cosa Sta sfuggendo di mano di nuovo Stiamo calmi tutti Stiamo calmi tutti Stiamo calmi tutti Stiamo calmi tutti Mannaggia le vostre sorelle Mannaggia le vostre sorelle Via 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 doesn't Dove cazzo Vole il diamanto al suo No Aia Avete rotto Un po' Tutti Le scatole Volete particolare Tutti i video Ma state Semplicemente rompendo Le scatole In maniera Infinita Mannaggia A qui Non ve lo dice pure Stiamo calmi Porca miseria Allora a me intanto servono Levare sti cosi qua che non servono a nulla Dammi dei blocchi da costruzione Qui che mi tornano utili in caso di necessità Come è successo prima Ora stiamo calmi Torniamo a dove eravamo prima cortesemente Che c'era un diamantozzo che non mi ricordo più dove cazzarola era Io forse ho fatto il giro di qua Può essere? Sei qua diamantozzo dimmi che sei qua Dove cazzarola mi hanno fatto perdere il diamantozzo Signori mannaggia allora Qui non glielo dice pure mannaggia Mannaggia Allora qua c'è del Qua c'è del coso Ok qua c'è dell'esperienza Così a buffo Che noi ci recuperiamo molto volentieri Qua ci sono delle cose esplose Perché giustamente il creeper non potrebbe Oh il diamantozzo L'abbiamo recuperato Solo uno? Sì va bene Uno meglio di niente Uno meglio di niente Eh ok Continuiamo L'esplorazione Sperando di non Far scatenare nuovamente l'inferno Riesce a mettere una torcia lì Siamo in una zona un po' tranquilla Sì perché devo fare torce signori Non abbiamo più torce Ora Il problema non è tanto il legno che ce l'abbiamo Ma è il carbone che sta iniziando a scarseggioare Scherzo gioare Scherzo gioare Altro ferro Che però è un po' in bilico Della red Sono là sotto Un altro diamantozzo Un altro diamantozzo signori Un altro diamantozzo Recupera 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 Cazzo Ci torniamo Nel nether ci torniamo Tutto diamantato signori Tutti diamantati ci torniamo nel nether Non lo perdiamo di vista Non lo perdiamo di vista Diamantozzo sto arrivando Non scapparmi diamantozzo Diamantozzo non mi scappare Sto arrivando 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 Oh eh eh Mannaggette Mi ha fatto Mi ha fatto prendere un colpo di paura Mannaggette Mannaggette Mangiamoci quest'altra costoletta Che è l'ultima che però ci è rimasta Ok Ma ci abbiamo altre sette bistecche Quindi diciamo che Siamo abbastanza coperti Ok Sali di qua Sali di qua Dobbiamo un attimino Bloccare la lava Posso fare una cosa pericolosissima Che stiamo appunto per fare Bene Ok Sento sparare Ma non mi spara nessuno Questa è una cosa buona Saliamo Ok Dai Almeno due Almeno due Mannaggia le tue sorelle Almeno due E invece me ne ha dato uno solo Siamo a due però Siamo a due Siamo a due E questa non è una cosa brutta Ora siamo in un punto bruttissimo Perché siamo circondati dalla lava Possiamo andare di là però Vediamo se di qua ci sta qualcosa di interessante Vediamo vediamo signori Vediamo Esploriamo Esploriamo Ok Di qua ci eravamo andati Il fatto che manchi una torce Mi fa capire che non ci eravamo andati Ma non mi sembra ci sia niente di interessante Ok Siamo tornati in una vecchia caverna Che non avevamo esplorato del tutto E questa cosa No Non è buona signori Bisogna sempre esplorare tutto Tutto di tutto Qua c'è della lava Rame Di là si cammina Blocca questa lava così Ok Così possiamo passare Torcina Ferro E un giro E un giro inutile Un giro inutile Va bene Continuiamo a recuperare un pochino di ferro E poi Proviamo a scendere ancora di più Che vi devo dire signori Siamo qui Siamo in ballo Balliamo Siamo in ballo Balliamo Oro Signori Oro recuperato Che non ci serve a nulla Però Ciò sapete per gli scambi con i pillager Questo potrebbe essere anche un altro obiettivo Da fare No Intanto ce lo portiamo a casa Nel dubbio Nel dubbio Ma noi ci portiamo tutto a casa Ok Lì c'è un buchetto Ma a noi Attualmente non interessa Proviamo ad andare di qui Ok Non penso ci sia niente interessante Altro ferro Lapislazzoli Che ci tornano utili E altro buco nell'acqua Niente da fare Recuperiamo però il ferro Signori Il ferro ci serve Il ferro ci siamo venuti appositamente Per cercare ferro Signori Abbiamo trovato anche altri due diamantozze Che non sono stati per niente male Lapislazzo Di buoni Che ci servono per fare incantesimi Perché prossimamente Signori Faremo anche il tavolo degli incantesimi Quindi Rimanete collegati Per nuove Sempre sviluppi Di questa serie Quindi andremo a costruire Una zona Di 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 incantesimi O quantomeno ci proveremo Dai così Dai così Recupera sto ferro Continuiamo a cercare Signori Altro oro Signori Che ci portiamo a casa Diciamo che questa volta Ce la stiamo decisamente Girando tutta Sta sta caverna Non stiamo lasciando Completamente nulla Nulla Sto facendo Rapidi tagli Sto facendo vari tagli Per evitare di Essere sempre Ripetitivo O farvi vedere Sempre che Sampia Sempre le stesse cose Però io sto prendendo Tutti i materiali possibili Immaginabili Presenti Lo zombie Lo zombie Magari Lo facciamo Via dal video Che non serve Che mangiamo Per esempio Il cibo Che stiamo Un attino In riserva Diamantozzo Signori Bello così Bello come il sole Questo diamantozzo E uno solo Manneggia te Perché me ne devi dare Sempre uno Uno Siamo a tre diamanti 19 li abbiamo a casa 19 li abbiamo a casa E quindi siamo a 21 E ma con 21 L'armatura Non ce la facciamo ancora O meglio Ci facciamo solo l'armatura Praticamente Non riusciamo a fare altro Qua si scende Di qua si scende Prepotentemente E dove cazzo Si va di qua Non si sa Scendiamo Signori Le avventure Sono belle per questo Io non so dove sto andando Ci sono degli squirter Quindi in teoria C'è acqua Quindi la cosa è buona Ma noi stiamo rischiando Di andare In zone Pochissimo Illuminate E questa cosa Non va assolutamente bene Stiamo in tutto questo Finendo le torce Altra cosa Che non va assolutamente bene Non so Minente Dove siamo Signori Ok Ok Io vorrei evitare Abbiamo finito Il primo giro di torce Andiamo a fare L'ultimo giro di torce Signori Che non ne abbiamo più Perfetto Non abbiamo più carbone Signori Però l'esplorazione Continua Là c'è un regno Che vuole partecipare Anche lui Al video Mannaggia te Ragazza Mi ha fatto l'attacco Dall'alto Tipo Tipo Star Wars Praticamente Mori male Ok Torcina Torcina Sto continuando Andare Stiamo Stiamo esplorando Siamo proprio Forse Le coordinate Meno Meno Non so quanto Ma siamo Siamo belli Profondi Prima sarà Tornare su Trovassi Una torta Di diamanti No Mannaggia te Mannaggia te E a me Che non mi faccio Le pozioni Con la pozione Quella per le visioni Notturne Sarebbe stato Spettacolare Signori Avremmo visto Tutto Tutto E invece Non stiamo vedendo Assolutamente Nulla Già non vedo Niente io Pensa voi Che state Comunque Seguendo Il video Ok Qui abbiamo Illuminato Qui abbiamo Illuminato Ma non ci sta Più nulla Che cazzare Mi ha fatto scendere Fino a qua sotto Se poi non mi fai Avere nulla Che senso Ha avuto Qua dove c'è Il ragno Di qua si Continua a scendere Sì Ma niente Di che Dell'oro E qui Siamo tornati Da nuovo Prima Là c'è un altro Ragno Qui mettiamo Una torcia E qui si Cammina Qui si Continua a scendere Verso nuovi Orizzonti Bene Oro Ok Questo lo prendiamo Quello l'ho lasciato Indietro Lo so L'ho visto Recuperiamo Quest'oro Di qua Che ora sarà Una Caterba E Boh Non lo so Signori Non lo so Che dire Secondo me Questo video Già sta durando Troppo Secondo video Di esplorazione Un po' più Esplorativo Ma poco Effettivamente Interessante Perché comunque Non siamo riusciti A ottenere Granché Di risultati Il ragno Non ci attacca Quindi fuori Deve essere giorno Quindi in questo momento Di tranquillità Di apparente Io vi ringrazio Per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per il supporto Vi ricordo di iscrivervi al canale E noi ci vediamo sempre qui Per un prossimo appuntamento Bella raga Ciao Ciao